Da una possibile vittoria ad una beffa amara. Questo il destino della Roma nella penultima giornata di Champions League di martedì. Sul terreno del CSKA Mosca, la formazione giallorossa di Garcia era passata in vantaggio nel primo tempo al 43esimo grazie ad una slendita punizione di Francesco Totti. Nella ripresa, sia gli Eilic che i Nainggolan hanno fallito per ben due volte il raddoppio. La beffa arriva al 93esimo, quando un cross innocuo di Berezuski finisce in rete beffando un incerto De Santis. Adesso le tre squadre sono abbagliate a 5 punti e i bigallorossi devono sperare che il Sidi non abbia vinto contro il Bayern Monaco.